il volto che vedete qui scolpito è quello dell'imperatore diocleziano è un testa conservata al museo di istanbul e è una delle figure capitali della storia romana perché nel 285 d.c. pose termine all'anarchia militare uccidendo l'ultimo dei 21 micro imperatori che si erano succeduti da massimino el traci a tacito che era un pronipote dello storico e cambiò in maniera sostanziale anzi abrogò di fatto la costituzione augustea che durava da quasi 300 anni per capire bene la portata profonda di questo mutamento basti pensare che si passa dal princeps primo tra i pari a dominus et deus signore e dio nella seconda parte dell'appellativo che riservò per sé viene indicato anche la motivazione della sua della sua persecuzione anticristiana c'era diciamo un certo conflitto di interessi perché nel comandamento numero uno c'era scritto non avrei altro dio all'infuori di di diocleziano e questo provocherà non pochi problemi qual è il monumento simbolo della monarchia dioclezianea a nota linguistica molto interessante da diocleziano in poi la parola imperator comincia ad assumere il significato moderno di imperatore ripeto si passa da princeps a dominus et deus come per augusto lara pacis è il monumento simbolo della sua ideologia l'ideologia dioclezianea del dominus et deus è nel monumento ai tetrarchi si trova a piazza san marco a venezia e già questo è indicativo perché non è più a roma diocleziano era più o meno della zona vicino a belgrado era un pastore poverissimo arruolatosi per fame fatta carriera nell'esercito e diventa princeps diciamo pure dominus et deus dopo aver comandato una legione guarda caso distanza sul danubio che coltito dell'eufrata erano i confini caldi praticamente di tutto l'impero la prima cosa da notare è che non ci sono non c'è un regnante ma ce ne sono quattro tetrarchia governo dei quattro che sono abbracciati a gruppi di due erano divisi in due augusti e due cesari e tengono ognuno la mano pronta sulla spada pronta a difendere i confini dell'impero il gruppo scultorio in porfido più duro del marmo che voleva indicare nella mente di chi lo aveva commissionato una durata pressoché eterna ma poi vedremo che non fu così saltiamo un attimo alla fine di tutta la storia diocleziano abdica nel 305 e poi vedremo in che qual era il meccanismo particolarissimo di questa tetrarchia si fa costruire questo palazzo ti sembra una fortezza che dà sul mare oggi avrebbe definito un bunker con la struttura di un accampamento romano lui era più militare se possibile di vespasiano e di settimio severo e lui risiedeva in un punto qui in un punto inaccessibile soltanto pochissimi avevano il permesso di scavalcare queste vere e proprie difese perimetrali e di conferire con lui dominus et deus abbiamo detto più volte vediamo in dettaglio cosa fa governa dal 285 al 305 la data di creazione muta per meglio dire spazza via l'assetto istituzionale stabilito da augusto e ripetiamolo ancora perché è il concetto più importante trasforma il princeps primo tra i pari la più importante delle magistrature in dominus et deus ovviamente il potere passa nelle mani del sovrano che esautora in senato e l'impero è retto dai due tetrarchi questi signori che amano questo qui nella fotografia a venezia si trova quindi verso oriente due augusti e due cesari ecco come funzionava intanto perché quattro sorani perché l'impero è sterminato è troppo grande rispetto alla velocità delle dei mezzi e delle vie di comunicazione e allora per salvarle in unitarietà diocleziano paradossalmente lo fraziona in quattro parti e ognuna pone capo un dominus il sistema di successione era dir poco macchinoso gli augusti nominavano due cesari nel caso in cui un augusto moriva o abdicava nominava a sua volta un cesare che diventava augusto e nominava un altro cesare tutto questo ovviamente che cosa presuppone qualcosa di molto difficile da realizzare che fedeli allo spirito di questo gruppo scultorio gli augusti e cesari andassero perfettamente d'accordo tra di loro non fu così diocleziano dopo vent'anni di regno ed aver riassettato in maniera definitiva modificato eliminato di fatto l'assetto gusteo poi vedremo anche il discorso del passaggio dalle province alle diocesi abdica nel 305 e teoricamente i suoi cesari dovranno nominare diventare augusto e nominare un cesare ma i tetrarchi superstiti iniziano a farsi guerra tra loro una guerra che dura fino ai loro nipoti i tetrarchi originari erano diocleziano massimiano costanzo cloro e galerio diocleziano abdica ripetiamo nel 305 i tetrarchi iniziano a farsi guerra tra loro e dopo una serie di guerre che ricordano quelle civili escono vincitori costantino per l'occidente licinio per l'oriente nel 312 sono i nipoti dei tetrarchi e volevo far notare come ormai si parli di occidente e oriente che è una divisione che diventerà definitiva con teodosio a fine quarto secolo nel 395 dopo cristo anticipata dall'imperatore gallieno parso occidentis e parso orientis durante l'anarchia militare ecco nel 324 licinio viene assassinato in circostanze dubbie e costantino resta unico imperatore ormai significa questo sposta il baricentro del potere a costantinopoli sul vospero nella parte orientale vicino alla frontiera del danubio e al tigri eufrate con lo scopo di salvaguardare un impero troppo vasto diocleziano lo fraziona in quattro parti sembra una cosa contraddittoria e forse lo è ecco queste lo divide in quattro prefetture la gallia a costanzo cloro l'italia l'africa massimiano a galerio il lirico di due al loro originario e lui si dè nella prefettura d'oriente ogni prefettura quattro capitali treviri milano in comedia e signo dove a roma non c'è semplicemente non c'è le capitali guarda caso sono spostate verso i confini dove diocleziano praticamente ammassa l'esercito in modo analogo a come fece augusto soprattutto sul confine orientale ricordiamo a lui stesso si era autoproclamato princeps e poi dominus et deus dopo aver comandato una legione distanza sul danubio non ci sono più le province ma le diocesi l'impero viene frazionato in dodici diocesi tutte una uguale all'altra per cui roma di fatto perde ogni importanza anche perché essendoci il senato rappresentava un pericolo politico diocleziano risolve il problema semplicemente eliminando tutto il potere del senato ecco quindi questa sua riforma politica radicale avrà delle conseguenze perché non farà altro che accelerare il processo di divisione dell'impero in pars occidentis e in pars orientis che ripetiamo era stata anticipata da gallieno verso la nella seconda parte dell'anarchia militare e verrà istituzionalizzata dall'imperatore teodosio quello che renderà il cristianesimo religione di stato cioè dichiarerà che il reato non essere cristiani in pratica nel 395 dividendo dei ure oltre che de facto l'impero tra i due figli arcadio e onorio dicevamo quattro capitali in posizione strategica trevi di milano sirmi e nicomedia che lui si prende la pars orientis più orientale le province sono accorpate in diocesi unità territoriale più grandi e nessuna prevale quindi di fatto il sistema delle province auguste viene cancellato l'italia e roma perdono ogni importanza venendo equiparate alle diocesi dell'impero siamo veramente in un periodo di grandissima mutazione dell'impero romano come come entità territoriale basata sulle province sulla sulla diarchia augustea e sui centri urbani c'è una drastica riforma dell'esercito ovviamente dopo l'anarchia militare docleziano fa due cose uno riprende in mano il controllo dell'esercito e comincia a erodere sistematicamente il potere dei pretoriani corpo che poi verrà eliminato definitivamente dai sovrani successivi perché come sappiamo per i principes erano assai pericolosi diminuisce il numero dei soldati per ogni legione ma in questo modo le aumenta cioè diluisce praticamente l'esercito romano e lo concentra quasi tutto lungo i confini anche qui muta profondamente la struttura interna delle truppe perché divide l'esercito in limitanei truppe di confine di confine appena oltre il confine che erano quelle truppe dove poi alla fine roma fedele da sempre i dettami dell'imperatore claudio che diceva che la potenza di roma nel romanizzare anche i barbari vennero arruolati i germani all'epoca di costantino e poi i goti all'epoca di teodosio roma si fece modificare profondamente il principe era sempre quello non possiamo combattere i germani o i goti saranno degli ottimi legionari al servizio di roma dicevo i limitanei le truppe di confine appena oltre l'imes e il comitatus che erano truppe scelte quasi l'equivalente dei nostri corpi speciali dei nostri moderni eserciti nelle retrovie agli ordini diretti dell'imperatore ormai possiamo chiamarlo così quindi cambia profondamente l'assetto voluto rivediamo ancora una volta la divisione dell'impero per renderci conto divisione in prefetture costanzo cloro augusto galerio e diocleziano tiene questa qui che è la più difficile non più le province ma le province raggruppate in diocesi tutte una uguale all'altra e soprattutto le quattro capitali trevi di milano sirmio e nicomedia sono lungo i confini e il baricentro politico viene definitivamente spostato verso oriente roma ormai ha perso ogni importanza rimarrà una memoria storica spesso scomoda ma forse la la mutazione più profonda e anche che avrà conseguenze più radicali per l'impero romano sarà la riforma fiscale ora ormai nelle nelle casse dell'erario pubblico romano la voce più importante del capitolo di spesa era data dall'esercito ma non era stabile il numero dei contribuenti quindi bisognava attuare una riforma fiscale che in qualche modo stabilizzasse confermasse ogni anno il numero di cittadini romani che dovevano versare i propri contributi per mantenere l'apparato statale un apparato statale poi diviso in quattro parti quindi con quattro capitali e una un fisiologico aumento di spese e un esercito che costituiva la gran parte del budget del diremmo oggi delle finanze dello stato si decide che ogni zona agricola e urbana deve fornire ogni anno entrate fiscali certe determinate per realizzare ciò scusate manca la l ma fate conto che ci sia si deve stabilizzare il numero dei contribuenti cioè se nell'anno 285 l'anno in cui diocleziano diventa imperatore ci sono faccio caso 800.000 contribuenti nell'anno 300 ce dovranno essere sempre 800.000 di più ma non di meno e cosa sta succedendo però ai cittadini romani molti si arruolano nell'esercito per povertà molti morivano di peste e molti morivano per soprattutto nella zona orientale per lo stato di guerra continua sì perché nell'impero romano un po come era successo all'epoca di augusto la pace era all'interno ma lungo i confini c'era uno stato di guerra continua e logorante perché era una a volte una guerra di posizione un po come la guerra di trincea diocleziano prese un provvedimento che praticamente massacrò quella componente che aveva fatto sopravvivere l'impero romano per tanti secoli la mobilità sociale tanto per capirci l'impero romano aveva un ero gerarchizzato sì tutto quello che si vuole ma anche uno schiavo liberato un liberto che diventava cittadino romano poteva diventare tranquillamente console o primo ministro dell'imperatore non c'era alcun limite alla mobilità sociale né in basso né in alto per man per congelare il numero dei contribuenti diocleziano vietò lo spostamento di residenza cioè se tu nascevi a Nicomedia morivi a Nicomedia per te e per i tuoi eredi e il cambio di professione per cui chi era artigiano aveva dei figli avrebbero fatto gli artigiani i nipoti gli artigiani i nipoti e i nipoti agli artigiani sempre nello stesso luogo sì la condizione di un contribuente di un determinato luogo divenne di fatto ereditaria cioè io eredito dal mio genitore il mestiere la residenza che non posso cambiare e quanto devo pagare come venivano pagate le tasse vetticali e l'impero era diviso in zone fiscali ogni zona doveva fornire un determinato quantitativo di denaro quindi capiamo bene come questo imbalsami la società romana e perda quel dinamismo che l'aveva resa duratura per secoli viene noi diremmo oggi ibernata e questo non rimane senza conseguenze parallelamente diocleziano attua una riforma economica che oggi verrebbe definita un'economia pianificata cioè un'economia sotto il totale controllo dell'apparato della res pubblica dove tutti i prezzi di tutti i generi commerciali dalla collana della ricca matrona all'orcio di grano venivano stabiliti a livello centrale si viene stabilito anche il calmiere dei prezzi un blocco dei prezzi dei generi primari grano dicevamo olio farina per il pane ma la misura fallisce col risultato che i generi di prima necessità scompaiono dal mercato ufficiale e si crea un mercato parallelo che è un po' l'equivalente di quello che era la borsa nera ovviamente un impero così vasto con quattro capitali rivediamolo ancora una volta perché è un vero superamento della mentalità augustea ha delle spese enormi è un esercito che aumenta in continuazione anche se diocleziano ripeto diminui il numero di soldati per ogni legione ovviamente addestrandoli meglio ma aumentò il numero delle legioni e se esercito succhiava sempre più tasse quindi si innesca un circolo vizioso terribile aumenta la pressione fiscale che spinge l'inflazione e a rimetterci ancora una volta la moneta di rame che era quella utilizzata dalla maggioranza dei cittadini romani che erano poveri contemporaneamente complice la diminuzione del numero dei contadini perché molti si arruolano per non morire di fame come fece diocleziano stesso poi si chiamava gario valerio diocle in realtà in arte diciamo diocleziano complici le epidemie che non erano mai passate del tutto o la situazione di guerra soprattutto nella zona danubiana e del tigreofrate si aggrava la crisi della produzione delle risorse vale sempre il discorso che l'impero romano una volta che blocca la sua espansione a partire da elio adriano non ha più nuovi territori da vampirizzare da sfruttare e comincia a mangiare se stesso resta e risolta la questione dei piccoli contadini che avrebbe potuto risollevare un'economia al collasso se solo magari anche con la terra i veterani i piccoli contadini che costituiano praticamente la maggior parte delle truppe di basso profilo dell'esercito romano diocleziano avesse avuto un pezzo di terra per vivere non venne risolta e quindi questa è la cosa più importante si consolida definitivamente a scapito della città la struttura socio economica del latifondo e della villa quindi l'economia e di riflesso la vita sociale piano piano lentamente mai inesorabilmente tende a spostarsi sempre di più verso la campagna e non verso la città si prepara molto alla lontana quella situazione che si verificherà all'epoca di benedetto da norcia si proprio quello di ora et labora che scrive la sua regola monacorum nel 530 quando roma dal milione e passa di abitanti dell'epoca del principato adottivo di commodo del gladiatore fine secondo secolo ne ha 18 mila forse anche di meno quindi una scena post apocalittica c'è una fuga dalle città perché diventano pericolose ingestibili serbatoi di povertà c'è una fuga verso le campagne lentamente è un processo molto lento ma inesorabile inarrestabile la struttura socio economica della difondo e della villa e del colonato come poi si vedrà nei secoli successivi si consolida a scapito della civitas e della urbs si sta preparando quelli che saranno il feudum e il monasterium che saranno le due istituzioni non più della res pubblica ma saranno una res privata del medioevo l'economia a questo punto è fuori controllo perché la moneta di rame che era quella materialmente più diffusa più dell'80 per cento della popolazione romana usava quella che praticamente non è alcun valore complice l'inflazione selvaggia aumentata dal sempre maggiore carico fiscale non valeva più nulla la moneta che aveva un valore effettivo quella d'oro e d'argento veniva usata per pagare le truppe di fatto veniva imboscata l'altra faccia del potere di oglezianeo è la persecuzione anticristiana ecco qui bisogna fare una precisazione sembra strano uno si potrebbe chiedere ma roma persegue la logica del panteon tutti gli dèi che differenza faceva una divinità in più o una divinità in meno è roma era politeista e assorbiva sollecitazioni da tutte le parti dell'impero sappiamo bene che i severi dinastia di origine africana erano stati educati alla cultura del disco del culto del disco solare il dio mitra del culto mitraico che era di origine orientale un culto in più un culto in meno cosa faceva perché l'essenza della religione cristiana che venne confusa per parecchio tempo con quella giudaica distruggeva alla base il concetto di dominus et deus prima ma prima ancora di questo diceva in una società gerarchizzata di questo tipo che lo schiavo e il romano il greco e il barbaro erano uguali e questo non andava poi la cosa che veniva considerata più eversiva oggi qualche magistrato la definirebbe anarco insurrezionalista e per certi aspetti eversiva lo era era che ripeto nel comandamento numero uno io sono il signore di oduo non era altro dio all'infuori di me non c'era scritto non era altro dio all'infuori di diocleziano e diocleziano si faceva chiamare dominus et deus ma non per la sua origine orientale o perché amava farsi vedere come nerone che si era fatto costruire la statua del dio sole alta 35 metri con la sua faccia ma perché voleva porre un fondamento religioso perché nel mondo antico anche qui vale sempre il discorso che religione e politica sono unite inscindibilmente pregare un atto politico nel senso un atto del cittadino politicos in senso greco orientale appunto e quindi il dire no io non sacrifico al deus dioclezianos ma a un altro che non è lui era un'idea a dir poco sovversiva che cosa fa diocleziano tenta è una soluzione finale comincia a perseguitare a tentare di eliminare sistematicamente la religione cristiana e cristiani la sua vittima più illustre fu san genaro il culto però è diffuso capillarmente così capillarmente che avrebbe dovuto sterminare mezzo impero anche le classi dirigenti sì perché tantissimi aristocratici erano neoconvertiti e qualcuno finì pure martirizzato il problema lo risolsero nel 313 col celebre ditto di milano costantino e licinio che rendono legale il culto cristiano ecco qui è opportuno fare una precisazione non è che vietano il paganesimo dichiarano legalizzano un termine forte diranno non è più reato essere cristiani cioè si può essere o cristiani o pagani chiaramente poi come si vedrà durante il regno di costantino costantino e licinio e poi costantino da solo renderà legale il cristianesimo per assorbirlo inglobarlo e pilotarlo ma non è più reato essere cristiani il passo successivo lo farà teodosio quello che abbiamo detto all'inizio di questa lezione dividerà l'impero in pars orientis e pars occidentis con l'editto di tessalonica che nel 378 rende il cristianesimo religione di stato cioè dichiarerà reato essere pagani cosa che avrà effetti diciamo apertamente ufficialmente sì ma rimarrà una corrente soprattutto legata alla filosofia neoplatonica pagana sotterranea che durerà per secoli e sempre riguardo a san benedetto nella sua geografia nella sua vita di santo è descritta una la distruzione da lui operata di un tempio pagano quindi come si vede non basterà una legge per eliminare la mentalità del paganesimo che anzi per certi aspetti riaffiorerà nei secoli successivi sotto tante altre forme